Mi conviene passare da Canon EOS 6D, quindi prima versione, a Canon EOS 6D Mark II. Questa è una domanda che mi ha fatto più di una persona e quindi ho deciso di fare un video dedicato a questo aspetto. Andremo a vedere la macchina nello specifico e andremo anche a vedere se è il caso di fare il passaggio da una versione 1 a una versione 2 estendendo il discorso un po' a tutte le case e a tutti i modelli, perché ci sono diverse affinità. Prima di cominciare vi ricordo che sovente realizzo video per aiutarvi a indirizzare la vostra scelta su un prodotto fotografico o video piuttosto che su un altro. Per cui se non siete ancora iscritti vi consiglio di farlo subito. Quelli che si iscriveranno adesso avranno un 30% di possibilità in meno di commettere un errore e fare un acquisto sbagliato. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e sono un fotografo che fa video su YouTube. Oggi vado a rispondere a una domanda in particolare che ho trovato abbastanza interessante, perché un utente, e non è stato il primo in realtà, quindi questa è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un utente mi ha recentemente chiesto in un commento se gli conviene passare da Canon EOS 6D, prima versione, quindi macchina che possiedo e uso anch'io, alla versione 2. Metto subito le mani avanti e vi dico che io per esempio questo passaggio non l'ho fatto, e quindi non è che sono qui a difendere la mia scelta, sono qui a spiegarvi perché secondo me non è una scelta vantaggiosa. Facciamolo innanzitutto andando a vedere quali sono le differenze principali tra le due macchine. Che cos'è che è stato introdotto nella seconda versione e che quindi nella prima versione non c'era? Innanzitutto il monitor orientabile. Nella prima versione siamo al cospetto di un monitor fisso, quindi una fotocamera un po' vecchio stampo, con un monitor non tiltabile, che può generare alcuni problemi, soprattutto se si vogliono girare riprese da angoli strani o se si vuole fare video. Un'altra cosa che è stata introdotta è il touchscreen, quindi sulla versione 2 abbiamo la possibilità di fare determinate cose un pochino più moderne, un pochino più da mirrorless volendo, andando a toccare il display, quindi anche la messa a fuoco e anche il menu è navigabile tramite touchscreen. Quindi se siamo fan di questo tipo di cose, questi possono essere motivi per fare il passaggio eventualmente. Il processore è stato rinnovato e migliorato, quindi siamo al cospetto di un Digic 5 che è diventato un Digic 7 sulla versione 2, quindi il processore migliorato ci offrirà sicuramente delle prestazioni più avanzate, qui non ci piove. Il sensore, siamo passati da 20 megapixel a 26, una cosa un po' simile a quella che è successa con Canon EOS R e Canon EOS R Mark II, questo è un giochino che la casa continua a riproporci, fa uscire un modello e poi in brevissimo tempo fa uscire una versione 2 che ha 2 megapixel in più e un paio di cosine in più. Andremo a vedere dopo perché io non sono tanto a favore di questa politica, comunque per il momento vi basti sapere che abbiamo 6 megapixel in più. Massima sensibilità ISO, passiamo da 25.600 mi sembra a 40.000 come sensibilità ISO massima, quindi abbiamo un bel po' di sensibilità in più. Questo che cosa significa? Scatteremo mai a ISO 40.000? Ragazzi io vi auguro veramente di no, nessuno dovrebbe mai scattare a ISO 40.000, è veramente un caso ma neanche estremo di più. Però il fatto di poter arrivare a ISO 40.000 vuol dire che probabilmente la macchina performa meglio a ISO 3000 e 2, performa meglio a ISO 6.000 e 4, avere una sensibilità ISO più estesa significa che probabilmente la macchina andrà a lavorare meglio sulle sensibilità più basse, quindi è una cosa comunque che va bene, non è una cosa brutta, non è una cosa da scartare. Punti di messa a fuoco, questo devo dire potrebbe essere discriminante per la scelta della macchina, perché sulla prima versione abbiamo a che fare con 11 punti di messa a fuoco, di cui uno solo, se ricordo bene, a croce che è quello centrale, mentre sulla versione 2 abbiamo 45 punti di messa a fuoco, quindi abbiamo ereditato il sistema di messa a fuoco di Canon EOS 5D Mark III mi verrebbe da dire, insomma di una macchina avanzata, è più avanzata della prima versione della 7D, quindi è un bel sistema di messa a fuoco, niente da dire, migliore di quello di 6D Mark I, quindi da questo punto di vista assolutamente c'è un miglioramento. Copertura del viewfinder, ovvero la porzione di immagine che riusciamo a vedere del viewfinder, è migliorata dal 97%, passiamo al 98%, è un miglioramento, non è un miglioramento dell'1%, ma è un miglioramento. Per quanto riguarda la raffica, passiamo da 4.5 fps a 6.5 fps, quindi abbiamo un piccolo miglioramento anche per quanto riguarda lo scatto continuo, la raffica quando catturiamo più immagini consecutivamente. Come ben sapete questa è una cosa che io non uso, però vi segnalo che effettivamente la raffica è stata migliorata in virtù anche del sensore e del processore rinnovati. Veniamo a una cosa che a me interessa molto, ovvero la vita della batteria, perché da quello che vedo, dalle specs dichiarate, a quanto pare 6D Mark II ha una durata di batteria superiore rispetto a 6D. Quindi passiamo da un migliaio di scatti a 1.200 scatti. Questa è una cosa che a me non dispiace, anche se comunque se siamo sui 1.000 scatti, cioè ragazzi, 1.000 scatti vuol dire che io ci lavoro due shooting consecutivi, cioè faccio due shooting senza ricaricarla praticamente, poi la ricarico lo stesso, però potrei fare due shooting senza ricaricarla. Normalmente in una giornata, quando io lavoro tutto il giorno, torno a casa con 400-500 scatti al massimo, quindi ci faccio due shooting abbastanza tranquillamente con una carica. Se sono 1.200, meglio, vuol dire che sono ancora più sereno. Per quanto riguarda il video, le migliorie introdotte sono poche, mi pare che ci sia qualche frame rate in più, forse arriviamo a 60 fps, insomma c'è qualcosina in più, ma poca cosa, non è stato introdotto chissà che. Da quel punto di vista fondamentalmente è la stessa macchina con il sensore migliorato e con il processore migliorato, però non sono state fatte grosse rivoluzioni. Ora, andiamo a cercare di capire nello specifico, per esempio perché io non ho voluto fare questo passaggio. Vi parlo di quando uscì la prima versione, quindi i prezzi che mi ricordo io non sono quelli di oggi ovviamente. Quando uscì Canon EOS 6D, io mi ricordo benissimo che la pagai 2.199 euro, quindi quando escono queste camere costano tanto. Io la presi che era praticamente appena uscita, insomma da qualche mese. Io all'epoca lavoravo in un negozio, lavoravo in un punto vendita, come promoter proprio per le tecnologie Canon, e quindi parlando di queste macchine ai clienti che entravano, che non sapevano cosa comprare, sapevo esattamente che cosa volevo. Volevo una 5D, però quella costava ancora di più, quindi ho preso quella che si avvicinava di più, che era la 6D, una macchina che mi è piaciuta subito tanto, mi è piaciuta tantissimo, ci lavoro ancora oggi, ancora mi piace. Quindi l'ho presa, e senza nessunissimo pensiero, perché mi sono proprio detto, questa è la macchina per me, infatti lo è stata, perché è una macchina che ho da... quando è uscita 2012? Cioè ce l'ho da 11 anni e ancora mi piace. Quindi si può dire che è stata la macchina della mia vita, e un pochino lo è ancora, perché comunque è la macchina che uso più spesso ancora oggi. Capite però che l'ho pagata 2000 euro. Ora, vi confesso che non mi ricordo quanto costava la Mark II quando uscì sul mercato, ma immagino che costasse uguale, perché comunque quando escono, si posizionano più o meno così, sarà costata tra i 2002 e i 2005. Correggetemi se sbaglio, perché non me lo ricordo, non avendola acquistata, non mi ricordo neanche cosa costava. Però a questo punto io posso farmi due conti sui prezzi attuali, e posso quindi dirmi, io la 6D prima versione l'ho pagata a 2200. La Mark II oggi, io la trovo nuova a 1600. Poi qualcuno mi dirà, ma non è vero, con le offerte il cashback, più questo tagliando questo coupon, questo, questo e quest'altro, io l'ho pagata soltanto 199 euro. Va bene, però io sul sito ufficiale di Canon la vedo battuta a 1600. Quindi per me il prezzo è quello. Poi se c'è l'offerta, l'amico che vi fa lo sconto, il negozio che non vi fa pagare l'IVA, quello è un altro discorso. Io faccio riferimento ai prezzi sul sito ufficiale. Se costa 1600, questo significa che, avendo comprato la prima, e andando adesso a comprare la seconda, io in totale spendo 4000 euro. È una bella cifra. Cioè significa che io per comprare la prima, ho speso, facciamo finta, facciamo finta che ho speso 2000 per la prima, e adesso spendo 1500 per la seconda. Vuol dire che io totale ho speso 3500 euro. Ragazzi, con 3500 euro, io quasi, dico quasi, mi prendevo una R5. E stiamo parlando di una macchina migliore, che potenzialmente ti dura anche di più, perché è una macchina così, non si svaluta. Cioè una macchina come la R5, fra 20 anni, funziona ancora, ed è ancora buona, perché comunque quello standard è difficile da scalfire. Quindi questa è la prima motivazione per cui secondo me fare un passaggio di questo tipo non conviene tanto, perché fondamentalmente stai pagando due volte la stessa cosa, cioè stai riprendendo la stessa macchina, la stessa identica macchina con due migliorie. Con quei soldi, con quegli stessi soldi, ti prendevi una macchina che era un altro pianeta. Quindi questo secondo me è un grosso motivo per non fare il passaggio da una versione 1 a una versione 2. semplicemente il lato economico, perché con gli stessi soldi, invece di dire mi prendo due entry level, con gli stessi soldi ti prendevi quasi una miraglia. Quindi questa è una cosa su cui ragionare secondo me. Dipende ovviamente dall'uso che ne facciamo poi, perché uno potrebbe anche dire io la miraglia non la voglio, non voglio andare in giro con 4.000 euro di macchina, preferisco averne due, così una la uso in casa, una la uso per lavoro, una la uso per me. È possibile splittare le risorse in questo modo, lo faccio anch'io talvolta, quindi non è sbagliato. Però una riflessione da fare è, se abbiamo una macchina sola, e quindi stiamo pensando di vendere quella che abbiamo per prendere la versione 2, secondo me non conviene, perché le abbiamo pagate tutte e due prezzo pieno, e le migliorie che andiamo a coprire con la versione 2 sono veramente poche sul totale di quello che abbiamo speso, perché alla fine sul totale di quello che abbiamo speso, abbiamo speso 3.500 euro, e ci troviamo con 26 megapixel, caratteristiche video così così, caratteristiche fotografiche sì buone, anche al passo coi tempi per carità, però con la stessa cifra ci prendevamo la R5, che è tutt'altra cosa. Andiamo a vedere nello specifico queste caratteristiche, e come mai secondo me non convengono così tanto, dal punto di vista proprio economico. Allora, 6 megapixel in più, quei 6 megapixel in più non servono a chissà cosa, cioè intendiamoci, il discorso è questo, se vi servivano 26 megapixel, è un caso molto raro, non prendevate la 6D prima versione, perché non ce li aveva, prendevate la iOS R, prendevate la 5D, quindi se avete preso la 6D prima versione, vuol dire che vi andavano bene 20 megapixel, e quindi passare a 26 non avete un vero motivo, non c'è un vero motivo, perché altrimenti non compravate quella macchina se non rispettava le caratteristiche che vi servivano, quindi avere più megapixel non vi serve. 26 megapixel sono tanti poi, io mi immagino che un buon 99% di quelli che stanno seguendo i miei contenuti pubblichino le loro immagini sui social media o tutt'al più su un sito web. Per fare questo tipo di utilizzo non servono 26 megapixel, uno può dire io voglio avere il piacere di avere la foto grossa, perché la voglio lavorare bene a computer, però poi nel momento in cui la andiamo a pubblicare, ma io stesso quando le pubblico sul mio sito le pubblico in full HD, le pubblico con il lato lungo di 1920 pixel, quindi non mi serve tutta quella risoluzione, ho piacere ad averla perché magari un cliente mi chiede una stampa o perché voglio fare una stampa io, o perché pubblico un libro, vi ricordo che c'è su Amazon il mio manuale dedicato alla fotografia di interni, io ho messo le mie foto in quel manuale e sono foto grosse con cui posso coprire la doppia pagina, quindi a me servono i megapixel, perché poi magari ci stampo delle cose e nel momento in cui stampi una cosa, averle le immagini grandi è essenziale, altrimenti la qualità ne va a perdere. In quel caso può servire avere più megapixel, anche se comunque molte di queste foto le ho scattate con la 6D prima versione, quindi vi dico, con la 6D prima versione coprite tranquillamente una doppia pagina di un manuale o di un magazine, quindi 26. Secondo me non vi servono. Touchscreen e monitor tiltabile, ma allora questa è una cosa che può piacere o no, io vi dico, io il monitor tiltabile lo uso, lo uso sempre, perché ormai quasi tutte le macchine che utilizzo ce l'hanno, è la parte più fragile di tutto il corpo macchina, quindi se ho dei corpi macchina su cui non c'è, come 5D Mark IV o EOS 6D se è per quello, io con quei corpi mi sento molto più a mio agio, perché sono più solidi, perché sono meno propensi a prendersi delle botte su quello sportellino sempre aperto, quindi è una tranquillità anche non averlo per me. Poi quando ce l'ho lo uso, ma lo uso per fare video, lo sto usando adesso per fare video con Canon EOS R7, ma raramente lo uso per scattare, non sono uno che scatta tenendo la macchina fotografica così come se fosse una pistola di un gangster, io la uso sempre così, e quindi raramente uso quel monitor, dipende dall'abitudine ovviamente, dall'abitudine di ognuno. Secondo me spendere tutti quei soldi solo per il monitor tiltabile è un po' tanto. Andiamo avanti con le caratteristiche, vediamo il nuovo processore, abbiamo un DGX7, certo ragazzi è meglio, però con la 6D io ci lavoro da 10 anni, e sono sempre riuscito a fare tutto, quindi la domanda è sempre quella, spendo tutti quei soldi, spendo ancora altri 1.500 per avere il nuovo processore? Ma mi serve? Ma cosa mi dà in più? Qualcosa mi dà in più? Però io ho deciso di non fare questa scelta, ognuno di noi deve guardarsi dentro e dire ma a me serve quella cosa, ma quanto migliorano le mie foto se ho il DGX7 invece del DGX5+, quanto migliorano le mie foto? Perché poi attenzione, le foto le facciamo noi, non le fa la macchina, quindi se noi lavoriamo bene, lavoriamo bene con qualunque macchina, se noi lavoriamo male, viene fuori una schifezza, anche se abbiamo il DGX7, capite cosa voglio dire? Idem dicasi per gli ISO, cioè io scatto con la 6D da dieci anni, non sono mai una volta sola, ho anche fatto un video, andatevelo a recuperare, ve lo lascio da qualche parte linkato, ho fatto un video in cui vi parlo dell'unica volta in vita mia in cui ho scattato a ISO 6.400 con la 6D, una volta in tutta la vita, 6.400, non 25.600 quel che l'è, ho scattato a 6.400 e andava bene così, non c'è bisogno nella vita di scattare a 40.000 ISO, non c'è mai bisogno, se vi trovate in una condizione per cui dovete scattare a 40.000 ISO vuol dire che avete sbagliato qualcosa prima, mi vengono in mente quelle domande che fanno ai guru della difesa personale, la domanda che fanno sempre è ma se io mi trovo in una stanza circondato da 9 persone, come faccio a uscirne vittorioso? La risposta è sempre la stessa, non dovevi trovarti in quella condizione, non dovevi trovarti in una stanza solo contro 9, è quella la cosa, quando io mi trovo a dire devo scattare a ISO 40.000 vuol dire che ho lavorato male, vuol dire che ho sbagliato tutto, vuol dire che potevo prevedere che non c'era luce, mi portavo un flash, mi portavo delle torce, mi portavo qualcosa, potevo prevedere che sarebbe stato buio, mi portavo una lente più luminosa, mi portavo qualcos'altro, cioè trovarsi a scattare con 40.000 ISO vuol dire che siamo andati allo sbaraglio e non avevamo idea di quello che stavamo facendo e quindi in una condizione del genere a prescindere non verrà fuori niente di buono ma è veramente difficile trovarsi a scattare con quella sensibilità perché non serve praticamente mai, anche se sbagliamo tutto, probabilmente con ISO 6.400 ce la dovremmo cavare lo stesso e quindi di nuovo spendere tutti quei soldi per avere un'espansione ISO a 40.000 che poi non usiamo mai o la usiamo solamente se abbiamo sbagliato tutto, io preferisco dire sto attento e non sbaglio tutto così non ho bisogno di quell'espansione, preferisco fare questo ragionamento e ha funzionato per 10 anni quindi lo reputo valido. l'unica cosa, veramente l'unica cosa su cui ammetto che ci può essere un pochino di dubbio sono i punti di messa a fuoco perché la versione 2 ha un sistema di messa a fuoco che è indubbiamente migliore, è sicuramente migliore, ha più punti, permette di fare più cose, ha più punti a croce, quindi quella veramente può essere una discriminante e a quel punto io vi dico se dovete fare fotografie in movimento, fotografia sportiva o cose del genere, naturalistica o cose del genere, può essere che la versione 2 sia più adatta a voi. Ma, 1500? Ragazzi, no, perché per 1500 vi prendete Canon EOS R7 che è veramente molto più su come camera rispetto alla 6D Mark II, come sistema di messa a fuoco, come tecnologia incorporata, come corpo macchina, è nettamente migliore. Certo, è APS-C, state guardando un'immagine prodotta da quella camera, guardate la grana, guardate il dettaglio, vi assicuro che è strepitosa, è strepitosa ragazzi. E ha 30 megapixel, quindi ha una risoluzione ancora maggiore di 6D Mark II. Quindi se dovete fare una scelta con quei soldi, ma vi prendete un'altra cosa, secondo me. Non voglio denigrare la Mark II, è una buona macchina, produce delle ottime immagini. Quello che dico è che se avete già la prima versione, spendere tutti quei soldi per passare alla seconda versione, secondo me è uno spreco immane. Perché state spendendo tanto, ma state prendendo pochino pochino in più. Avete solo la comodità di essere rimasti sullo stesso corpo macchina, l'illusione che non si è cambiato niente, però i soldi li avete spesi davvero. E invece con gli stessi soldi vi prendevate qualcosa di molto più progredito. È lo stesso discorso, secondo me, da applicare anche su Canon EOS R6. Perché hanno fatto esattamente la stessa cosa. E ripeto, non è una cosa con cui io sono molto d'accordo, questa politica. Perché nel momento in cui esce una nuova fotocamera, una nuova tecnologia, uno preso dall'entusiasmo, o magari perché gli serve per lavoro, dici, ah che bella, me la prendo perché mi serve, perché mi migliora una serie di processi. Ok, la prendi. E la prendi pensando però, la macchina perfetta non esiste. Quindi io la prendo, peccato che abbia solo 20 megapixel. Peccato che non abbia il 4K. Ok, la prendo, questo c'è, altrimenti dovrei cambiare brand, cambiare le ottiche, magari non voglio farlo, quindi rimango con questa casa e prendo quello che è uscito. Sei mesi dopo esce la versione 2. E tu dici, oh porca miseria, i due megapixel in più che volevo, adesso sulla versione 2 ci sono. Cos'altro c'è, cos'altro può servirmi? Mi hanno messo magari il log, mi hanno messo il 4K, mi hanno messo il timelapse in 4K, erano le due cose che mi servivano, ho speso 2000 euro, sto ancora finendo di pagare le rate, ho fatto magari un finanziamento a due anni, 24 mesi, e dopo sei mesi esce il modello nuovo. E io che cosa faccio adesso? Cioè devo vendere quella che ho appena preso per pagarmi la seconda? Quindi ne ho comprata una da 2000, la vendo a 600 e poi spendo altri 2500 per comprarmi quella nuova, cioè così gli ho dato 4500 euro invece di 2000. È ovvio che le case lo fanno questo giochino, ti fanno uscire prima un modello a cui mancano delle cose e poi poco tempo dopo ne fanno uscire un secondo. Perché? Perché molti lo prendono il modello dopo, molti dicono cavolo, era esattamente quello che mi serviva, peccato che ho comprato questa prima sull'onda dell'entusiasmo, adesso la vendo, oppure la tengo anche, ne prendo un'altra e così ho pagato due volte però. E questo secondo me è assolutamente svantaggioso perché normalmente ti mettono proprio due cosine piccole così di differenza. È evidente che se io la macchina non ce l'ho, arrivo e devo scegliere se prendere una o l'altra, a quel punto dipende dal mio budget, dipende da quanto sono disposto a spendere, da quello che ci faccio, magari quei due megapixel in più non mi servono e prendo la prima versione. Magari invece mi serve assolutamente, che ne so, il logo, il 4K non croppato e allora prendo la seconda versione che costa un pelino di più. Ci sta pacifico. Nel momento in cui io non ho nessuna camera, vale per la 6D e vale per la R6, nel momento in cui io non ho nessuna camera, scelgo o una o l'altra in base alle specs. Ma nel momento in cui ho la prima versione e l'ho pagata tutta, cavolo, andare a prendere la seconda versione e ripagarla tutta per avere quelle due robine piccole così in più è veramente seccante e secondo me non conviene. Secondo me, infatti io non l'ho fatto. Vi dico per esempio che io ero molto tentato di acquistare R6, non l'ho fatto perché le mancavano un paio di cose che invece mi servivano e ho scelto R7 di cui sono contentissimo perché aveva quasi tutto quello che mi serviva su R6, aveva qualcosina in meno ovviamente, però costava parecchi soldi in meno e quindi ho preferito R7. Ora, è uscita R6 Mark II. Se fosse uscita R6 Mark II prima che io acquistassi R7 probabilmente io avrei acquistato R6 Mark II perché era più completa, mi permetteva di fare più cose, mi permetteva di fare tutto quello che mi serviva per una cifra che non mi piace perché comunque costa tanto quindi non mi piaceva come cifra in ogni caso. Quindi forse avrei preso R7 in ogni caso, però sarei andato sulla versione 2 perché a quel punto era la versione espansa diciamo, la versione completa. Quindi non avendola avrei scelto la seconda perché comunque ti dà qualcosa in più, costa di più ma ti dà qualcosa in più. Non avrei scelto la prima versione avendole a disposizione entrambe, però avendo già a disposizione una R7 per esempio io difficilmente andrò a comprare una R6 Mark II perché comunque sono in ampia parte sovrapponibili. In gran parte mi danno le stesse cose con delle differenze, con qualcosina che cambia, però grosso modo per il lavoro che faccio io tirerei fuori grosso modo la stessa cosa, lo stesso file e quindi per me non ha senso averne acquistata una e poi cacciare fuori un sacco di soldi per acquistarne un'altra così tanto sovrapponibile. Ora, questo è un ragionamento che faccio io. Ognuno di noi deve andare a scoprire in base a quello che fa se ci sono delle specs che sono determinanti per quello che sta facendo. Perché se uno mi dicesse è ok, però guarda la prima versione non ha il monitor tiltabile, io voglio il monitor tiltabile perché faccio video, dico beh sì, allora fai bene a prenderti la seconda versione. Hai fatto male a prenderti la prima probabilmente che aveva una caratteristica che non ti andava bene. Era meglio se aspettavi o se prendevi un qualcos'altro. Nel caso ci sia un motivo vero per passare alla seconda versione io dico a quel punto facciamo l'investimento e passiamo, per carità. Non è che è vietato, attenzione. Quello che dico è semplicemente se c'è un qualcosa nella seconda versione che ci serve così tanto, probabilmente abbiamo sbagliato a fare l'acquisto a comprare la prima versione. Motivo per cui io R6 Mark 1 non l'ho presa. Non ho voluto fare un acquisto sbagliato e non l'ho fatto. Nel momento in cui sentiamo il bisogno di passare a un'altra macchina, pensiamoci molto bene prima di prendere la stessa versione di quello che abbiamo già. perché è molto probabile che con gli stessi soldi ci prendiamo qualcosa di più progredito. E l'esempio perfetto qui è proprio R7. Cioè invece di prenderci la 6D Mark 2 noi ci prendiamo Canon EOS R7 è una macchina che sta a una spanna sopra nonostante sia PSC. È una macchina molto migliore. Certo, non è full frame. Quindi l'unica cosa che perde, ma l'unica, è il sensore un pochino più grande. È quella l'unica differenza. Per il resto R7 vince su tutta la linea e a oggi da listino, da sito senza sconti, senza cashback, senza l'amico che fa lo sconto costano uguale da quello che io posso vedere. Quindi in un caso come questo io straconsiglierei di andare a controllare se ci sono delle macchine migliori, più recenti. Non è automatico che se sono recenti siano automaticamente migliori, però in generale saranno più performanti. Quindi io consiglio di andare a vedere in quella fascia di prezzo se si trova qualcosa di più progredito. Prendere la seconda versione ci darà sempre molto poco in più. Mentre prendere un'altra cosa è probabile che aggiunga proprio delle cose, delle tecnologie che non esistevano quando è uscita quella versione, la seconda versione della 6D per esempio. Bene amici, ma a questo punto vi chiedo, questo era il mio parere, questa era la mia verità, chiamiamola così. A questo punto vi chiedo la vostra. Fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale così riceverete le risposte a eventuali commenti che io pubblico in formato shorts verticale, un formato che non mi piace ma che è ideale per rispondere in maniera rapida, semplice e veloce a tutte le vostre domande. È stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.